e tutte con nova mi sa sì 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 rissa con le tette ma dai sì dai bene effetti un po dai no vabbè però c'è scritto a 12 heroes of the storm quindi che cazzo per me vedrò gente che entra e esce entra e esce vedrai perché si aspetta comunque abbastanza semplice ti muovi ti muovi in visiva beh beh in questo caso sono tutti nova quindi sarà un delirio signor sì sì perché la w lampeggia non mi sta ma dove sulla tastiera a me lampeggia ok adesso non si vedrà ma non si vedranno loro immagino dove sono soprattutto a sotto perché siamo già tirato un colpo c'è nessuno eccone qui una è già presa non so se l'ho presa io sbaglia quando muoio una volta ma fatto fuori quando muoio un nemico fight un colpo si mangiamo mangia massacrato una volta che casino che bordello si capisce un cazzo si capisce aiuto ci sono veramente realtà io 1 0 ok bravo mi stavo aspettando sono tutti sotto loro sì lo so e io sotto anch'io ecco ne ho una merda era un clone pure questo e poi ce n'è una a zizi due aiuto presa ho messo il clone hanno pensato che io io ah ho capito ho capito come giocarlo questo questo incontro pace ne sono troppi mi ammazzano sicuro invece che l'ho presa io ho ho capito come mi esalta ti Ti consiglio di non prendere il colpo in canna perché perché è lentissimo Cioè fa più danno ma è troppo lento a mio parere Ahia era un clone merda Non ho capito che cosa ho fatto Niente invisibile per favore ok No io ne ho ammazzati un po' però Ma come fanno a lanciare quei specie di fantasmi Cazzo però stiamo recuperando eh Comunque meglio secondo me il danno d'aria E se tutte le volte con me è scemo Merda Due volte con esce dallo stat quello che spy uccide ma cos'è il colpo di precisione? Eh si Si con la Q lo shoti praticamente se ho visto bene Adesso ho capito Guarda che quanti lo lanciano Cazzo non ne ho fatto niente Aiuto No per un pelo si è salvato Bello io ho attaccato il clone e quella che ha le mie spalle Grande Eh beh ma fai così eh Tu gli fai il laguato Niente mi vedono anche se sono Dai 6 Eh io son morto però sto per arrivare Però si muoviamoci perché Comunque sono in avvantaggio ma Se loro prendono tutti mi sa che ci ammazzano Merda Cazzo Stanno lanciando tutti Eh Cazzo Uccidetele nel mio nome Doppia uccisione 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 Ho preso un clone merda Eh questo l'ho ucciso Eh han preso l'oro Han preso l'oro Sì No Bello Merda Presa Eh no c'hai di Eh però c'è anche quest'altra però Due ce ne sono Mettete un clone no? Eh Se mette un clone mi fa uscire lo scopetto Qualcuno deve Brava brava Proprio tu brava Merda Stronza Ok Eh che cazzo Aya mi ha preso in pieno Eh fanculo Vabbè ci abbiamo fatto Ah ci abbiamo fatta Grande Cazzo scombattuta fino alla fine Però sai che il cecchino A tre colpi non mi sembra una grande soluzione Sono tutti nuovi Quindi lo sono Rischi di usarlo su No in questa partita no Ma se fai i quick match A un certo punto c'è un'abilità che te lo da Doppio o triplo Ed è un spettacolo Si 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 però il problema è che qui te lo Te lo bruci su Magari sul Sul clone Merda Clone di merda Oh Eh? Ma che facciamo ci facciamo massacrare così subito E che cazzo Mi ha preso le spalle C'è un bordello in mezzo No è un clone Si capisce un cazzo Si capisce un cazzo Ma che palle Sono tutte lì in mezzo Ok l'ho preso quella giusta Eccole Comunque si c'è un'abilità con i fantasmi Ma non me la conosco sinceramente E infatti ho capito Dov'è? Dov'è? Ma no ha laggato Maledetto Mamma mia Ha laggato di bestia No a me non ha laggato Mi hanno visto con la Ha laggato che la tua voce Dov'è? Dobbiamo fare un gruppo In teoricamente Non è che ho capisco chi sparare Ah ma il I mecenari Mi sa che ti danno Mi sa che ti danno gli oggetti E io Io ti consiglio di andare insieme agli altri Adesso ho un gioco E' qua eh E' qua vicino ai Cespi E' via morta Eh si Ci stanno imboscando nel vero senso Nella parola Cazzo ero un clone Eh Hanno usato Presa Grande Hanno usato la Cos'è che ha messo lì? Eh qualcosa lì che ti fa vedere Ah per vederti E per se gli attacchi ti scopri Porca troia Ho ucciso una ma mi ha ucciso Minchia sono salito a 5 uccisioni in No Cazzo Ah che bordello Chi è che c'ha il coraggio di Ah ah Dai qualcuno che ha il coraggio di Vai vado io Va fanculo Eheh Eccolo Va fanculo Niente Sono lì come dei gufi a aspettare Cazzo bellissimo però Beh ma io poi quello l'ho fatto fuori eh Migliore Anch'io Anch'io 5 Prima nemmo fatti di più però Eeeh vabbè Eh niente Beh 9 a 0 Ma non l'ho presa Il minion ho preso Bella Bella Presa Giù 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 Almeno io vado giù ce n'è una di qua Eh Bravo Stiamo andando tutti lì Vediamo eh Vediamo eh Metto qua un clone Vediamo se qualcuno Sembra che non ci sia nessuno Non abboccano Non abboccano Eh no infatti Provo a coprirti sperando che non arrivino Sono tutti sotti infatti loro Eccone una Questa è la vega Presa Era un clone cazzo Aspetta vieni qua Aspetta rimani lì Rimani lì che uso Vediamo se c'è qualcuno nei dintorni Ci sei? Si No dove? Non ho capito dove E' qua qua Si! No ho beccato Beh avevo beccato il minion Eh quando si mettono in mezzo sono dei Dei rossi spalle Eh sono utilissime ste cose dei mecenaghe eh Ok Dai andiamo facciamo la stessa cosa sopra Vieni Vive eh sono tutte lì Eh vabbè minion di merda Ok Eh mo ma non ci so più a me però Vaffanculo Comunque questo è una delle migliori risse che ho fatto io eh Mi spiace ma mi sta piacendo di bestia Si adesso che ho capito Molto tattica Adesso che ho capito come giocai No ecco lì No Merda eh ma era un clone anche quello Si E qua dietro lei Fatta fuori Buona Ah già posto Bella lì Mica 34-0 Si Un ritratto Un ritratto Fanculo Allora ce n'è uno infine In fondo ce n'è uno buono Ritratto di Halloween Voce No io no Voce e Oh Cinghiale Cavalcatura epica No io Un cinghiale Spendo 240 250 e ci riprovo Io ho preso il cinghialotto Che corazzato Io invece accetto ci sta Modello epica Niente Io sono sfigatissimo con queste cose Vabbè